ma viene da ridere perché ogni volta c'è un casino per montare sto cosa se vuoi che andiamo oggi al Mood andiamo ad Alagna ancora però non è bello io sto guardando la strada il tempo fa schifo abbiamo curato le previsioni per un mucchio qua dice che è sereno invece è nuvoloso andiamo là vediamo comunque oggi andiamo al Colle Mood Alagna l'altra volta a Sattal stavolta andiamo al Mood e vediamo com'è sempre sempre se è bello guardiamoli se è brutto non prendiamo del mio ambiente andiamo a casa vabbè ciao ciao questa volta la colazione l'abbiamo già fatta stiamo pronti a vestizione ciao Barbara facciamo esperienza adesso sto girando no 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 ma non era bellina allora dunque come era? eh non lo so che pensavo di essere da sola pensavamo di essere da sola invece abbiamo trovato qualcuno che viene su al Ferrioli già perché l'altra volta era ferro agosto era di sabato la barbara gli piaceva con un po' di compagnia essere soli sullo stesso tragitto meglio di no di avere un com'è che si dice quando che vedi una la stessa scena c'è qui davanti stesso equipaggiamento stessa felpa stesso posto hai cambiato le scarpe no abbiamo allora sabato scorso abbiamo inaugurato le scarpe nuove ed è stato un disastro per la barbara oggi abbiamo i bastoncini nuovi presi su amazon vediamo un po' come vanno no ma che lumaconi no ma si la svestizione tiene una bacchetta si la fai? si ok si fuggia i ferioli andiamo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Praticamente è una scala, ha dei gradini bellissimi. Ma come ho ripeto te? Grazie a tutti. 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 Siamo partiti da 1300. Oh, che differenza di clima. Non che faceva caldo, però questo sta meglio. Che differenza di clima ho detto. Oh, senti che bel fresco. Il bivio. Adesso dove andiamo? Si può andare di qua? Ormai siamo di qua. Si può andare di lì? Andiamo dentro. Io vado a sinistra? No, 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 andiamo tutti e due. Allora aspettami eh. Si venivamo giù a sinistra, stra mega super ripido. No, a parte che lì mi sembra che finisce. Lì finisce, qua c'era un taglio. Ed è ripidissimo. No, ma guarda lì finisce proprio. No, ma guarda lì finisce proprio. Là dove? Eh ma sono davanti alle piante o davanti? Andiamo. Intanto noi dobbiamo andare di là. Però io per me? Allora lì davanti a noi c'è una bandiera, in quella spianata là. E per me lì c'è l'Alpecampo lì dietro. E lì in alto proprio sopra? Eh di là no, e allora dietro l'Alpecampo di lì, lì in mezzo, andando su di lì si va al Sattale. No, ma vedi? Il Sattale è lì dietro. Se tu tiri proprio una riga, sopra c'è un'altra costruzione, la vedi? Sì. Eh sì vabbè adesso non so, però lì dietro c'è il Sattale. Non capiamo un cazzo ma facciamo il sapientone. Eh, andiamo. Allora, quello lì di fronte a noi? Eh può essere sia il rifugio quello. Forse. 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 No, no, ma è lui, è lui. Secondo l'esperto è lui. Un esperto improvvisato. Eh vedi là che ci sono quelli che ci hanno superato lì. No, non li vedo. Sono là, dove c'è la casetta là. Ah quindi vai dritto lì. Eh si andrà su qua a zig zag. Sembra così vicino il rifugio. Eh invece no, non è vicino. Questa quanto ci vuole ancora. Sono sempre stata al pari, adesso perché un attimo indietro mi hai stato gaffato, mi hai stato gaffato. guardate. Ma solo per me, per me si vede il sattaldo qua. Poi può essere che non è così, ma per me è così. Cado giù. Siamo accompagnati da un costante belare. Beh, sono un'incazzate nere. Non so se si vedono perché sono in ombra, ma pieno, 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 pieno. Sono ovunque. Beh, beh, continuo. Occhio non inciampare. Eh, momenti. Ma non li prendi per la rete? Sì. Ma secondo me questo qui non c'ha la corrente. No, questi no. No. Eh, infatti altrimenti l'avevo presa. No. Ma uno l'altro non sta lavorando. No, l'ha messo tutta in riga. No, l'ha messo tutta in riga. Peccato che non l'ho acceso prima. Ma che come che erano sopra? Sì, 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 stanno scendendo tutte, anche quelle di là. Allora siamo a 2042. Ah dai? Sì. 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 Abbiamo visto anche il cipariato delle tene. Ma che forte è sto ghiaccio? Sì. 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 Ma che tagli che ha, eh? Sì. 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 Bisogna anche stare attenti a dove si mette i piedi. tagliati. Si vedono meglio a scendere i segni. Qui non è più bello. Sì. 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 E lei dove vi vorrebbe far arrivare? No, no. Andiamo su. Andiamo su. C'è lì la strada. È lì. È lì la strada. Vabbè. Dove c'è? L'hovetto. Come l'ha chiamato ovetto? Ometto. Ometto. Ometto di sassi. Inoltre. Come se fiere dopo l'orecchio. Come perisedi? Cos'è ora l'orecchio? ma c'è gente qua ma c'è un po' che c'è la nupe e non si vede giù non si vede che il c'è la nupe e non si vede giù cos'è che state guardando che va a vedere la targa al ferioli cosa non si vede neanche più ma non mi ricordo l'orologio ha io ho fermato ok bivio qui si va al ferioli e di cui si torna giù e noi andiamo di qua guarda ferioli passeggiate in piano fino al rifugio è veramente un peccato che oggi ci siano ste nuvole veramente un peccato che è bellissimo sì siamo andati al mood buongiorno grazie si adesso la metto siamo di passaggio si si ok ok se no non ci sediamo si passa di qua in alternativa sopra c'era un sentiero che scendeva direttamente ma perché abbiamo potuto perché pensavamo fosse chiuso ma 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 perché sono tristissimo anche perché si sobbia la pizza comunque vabbè la prossima volta sarà un una motivazione per venire su ancora adesso ci beviamo un caffè qua ci beviamo un caffè anche noi seduti e si riparte lasciandoci alle spalle il rifugio ferioli si si non ciao e va Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un ticello che ci dice che siamo arrivati praticamente. Qui inizia e qui finisce. Una barbara invece di oggi. Con le scarpe, non con le calze, tutto ok. Stavolta è andata tutto bene. Andiamo alla macchina. Ah, cavoli, volevo salutare. Sì, prima che si accende. No, com'è acceso? Ci la facciamo? Ci la facciamo? Ah, ciao. Comunque com'è? Com'era? Dura, faticosa, ma non avendo mal di piedi. Sì, è stato così fatto il drone. È stato velocissimo. Beh, funziona, sta girando. Eh sì, perché l'ho schiacciato io. Allora, conclusioni. Bello. Bello. Faticosissimo. Ancora di più di... Allora, tutte le volte... No, mi pria il pericolino. Tutte le volte che dico... Che andiamo a fare una salita nuova, dico... Ah, questa qui è stata la più bella di tutte. Ah, beh, sì. La verità è che sono belle tutte. Ovvio che è l'ultima e l'ultima è sempre la più bella. Meno male che abbiamo trovato dei... Abbiamo sbagliato a strada e abbiamo trovato dei signori che ci hanno detto Ma dai, ma venite su al Mood. Non andate subito al... Al... Come si chiama? Al Ferioli. Allora, praticamente... E allora abbiamo detto, ma ciao, sì, veniamo. E quindi siamo andati fin sulla punta. Abbiamo mancato il bivio... Abbiamo mancato il bivio che andavamo... Che portava direttamente al Ferioli. E siamo andati dritti. E andando dritti siamo andati direttamente al Mood. Cosa buona. Bella, sì. Abbiamo visto il Mood. Purtroppo no, c'erano nuvole. Abbiamo visto la bella nuvola del Mood. Quindi non abbiamo visto niente in realtà. Ma va bene, siamo arrivati a... 2003... E 24. E 24. È il nostro record. Sì. Bello. Per ridere, però. Adesso stiamo tornando. E poi... E poi buon, siamo tornati giù al Ferioli. Peccato che avevamo i panini. Perché è raramente un nostro bello. Ma io ho la polenta, veramente, dai. Io mi piace la polenta. Non mi piace. Meno male che avevamo i panini. E poi buono. E poi il ritorno, tutta la discesa, lunghissimo. Ci abbiamo messo 3 ore e 20 arrivare al Mood. Secondo me stiamo parlando troppo, poi diventa troppo lungo. E beh, taglio. Allora, 3 ore e 20 è e 5 ore totali. Quindi abbiamo 2 ore e mezza a scendere e 3 ore e 20 a salire. 2 ore e 10 tornare. Bellissimo. La prossima volta andiamo su da Rima. Che sembrerebbe che sia meno... Che è più facile, dura poco, ci fermiamo il friolio e mangiamo la polenta. No, io non la voglio. No, io non la voglio. Non la voglio. Stiamo tornando.